Non lo so perché si vede che si muove Oh che c***o è caduto Che cosa dobbiamo fare Il caso è il numero 53 di Shannon Ross Risponde non ne siamo sicuri Quindi dobbiamo provare se risponde a tutti o a nessuno Cioè o a da soli Bisogna far camminare Cioè andiamo a casa allora Risponde a nessuno Un fantasma sul sale Fuggire al fantasma durante una caccia Senza morire e questa la vedo un po' improbabile Senti lo sai che a leggere le cose fai veramente cagare Non ti si può sentire proprio Deve essere un pochino più breve Ma questa signora sei tu? Sì sono io ti piaccio? Guarda in alto Guarda in alto No troppo in alto un po' meno Ma mi ricordi qualcuno non capisco chi sia Aspetta mi voglio guardare No prima che crash il gioco Guarda Comunque Anche a me ricorda qualcuno Tua madre No Ma vabbè Prendiamo un utensile Io prendo il tele Prende anche la candela Accendino Io posso prendere il sale? Sì Io prendo candela Accendino Io prendo l'MF E la torcia potente non mi ci sta Allora no Prenderà Alex Candela Accendino Ok lo prendo immediatamente Io prendo questa La torcia UV la prende stregatto Ok L'MF chi ce l'ha? Ce l'ho io Adesso il tuo bestio sale di 40 centimetri No Ha detto per caso Lion che puoi prendere l'MF? Io non l'ho sentito Neanch'io Puoi prendere la fotocamera? Te lo consiglio se Lion approva Posso prendere la fotocamera No ma allora adesso Adesso questi due Ma voi volete mangiare? Vi è venuta fame? No 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 Vi è venuta fame? Vi è venuta fame? È venuta a 30 ora Lasciamoli là C'hai il lettore MF Sì o no? Dice l'ho E allora Può prendere i tre oggetti? No vabbè No ma tu vuoi proprio ingozzarti Cioè ma adesso guarda No sto ragno è andato Ha fatto tre chilometri Alex Oh no Oh no Oddio Metti avanti Cioè ma tu ti rendi conto di quel che fa? Ma secondo te io non lo so Io lo so Ma di solito quanti oggetti funzionali teniamo a te? Uno Uno Hai ragione No Ma te lo faccio salire ancora? No Lasciamolo là ormai dai Per favore Andiamo alla cassa Cioè Gerica ma tu l'hai sentito sto infame cosa ha fatto? Ma infatti mi sa che il ragno Entro questa sera raggiunge il massimo No che schifo Ma io te lo auguro Alex Che tu te lo devi proprio mangiare questo ragno del cavolo No Cioè chiedimi scusa almeno brutto caffone Io non mi mette perdono Ma Mi avete chiuso fuori? No è che sei stupida e non sai entrare Forza Oh grazie Ma non è che si accendiamo le luci in qualche modo così eh? Secondo me non succede nulla Ma infatti anche secondo me Hai rivelato qualcosa? No non ho rivelato ancora niente Ma è tutto qui È piccoli Ah è qua È qua Da qualche parte è qua Ok Metto la candela? Sì è qui da queste parti Mettila qui Mettila qui per terra È qui è qui è qui Ok Il figlio della miseria Gerica dammi Le mette ancora basso Dammi il sale Dammi il sale Ecco a te No Grande Aspetta Ma Che c'è? Lo hai sentito? No Mi sa che è temperatura di congelamento Perché facciamo la nuvoletta Ok Dammi ora accendino e candela La candela mi hai detto di metterla qua Vabbè L'ha già accesa? Eh gliel'ho detto io di accenderla No Eh sì No Eh gliel'ho detto di metterla là Però mi hai detto anche di accenderla No dai No 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 Alexi il tuo è oltre metà eh È oltre metà Dietro l'angolo Io per pietà ora non te lo faccio salire Ma poi sale di più eh Se tu sbagli di nuovo Ok No non sbaglierò È il bonus Beh però non Non ha fatto niente Non ha pestato nemmeno il sale Non ci sono neanche le sue macchie Aspetta mi riprendo Eh guarda bene tutto tu eh Io sto guardando Allora è qua È meno 8 gradi Qua c'è un freddo della madonna eh Eh ma non sta facendo niente Nemmeno le meffe Eh mo non c'è più freddo Eh no è qua Eh ma mi sa che perché Forse è più vicino al centro È sto pezzente Ah ma guarda che si può entrare da qua Mi sa eh Eh allora Aspetta Eh sì è qua Mettigliela qua la candela No Ok Maledetto fantasma Ma succhia palle Dai ma se lo faceva anche quando eravamo lì accanto Eh anche lì Mettila lì Accendi Ma abbiamo un altro sale Sì sì Eh altro sale Gerico vai a vedere se c'è altro sale sul camion Vado subito Eccolo Attività 4 Dai ho smesso Oh È da Geric È da Geric È da Geric È da Geric Oh Fatemi possedere vai però Ma ha preso me No non ha preso nessuno Ma Geric che si è spostato Geric ti si è spostato Prendi l'aglio No ma io stavo tirando verso di me Sono che hai visto spostarsi eh Geric mangia No Sì 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 Si c'è di andare contro in quei casi Cioè tu non hai portato nulla E volevi far morire me Che ho portato tutto Prendi l'aglio No devo sentire Non sento sgranocchiare eh Geric Giuro Giuro che non volevo far Non volevo far morire me L'ha trascinato addosso E mi sono dovuto voler lanciare in mezzo Però questo fantasma è astro illecito Perché non fa nulla E poi attacca Ma è cattivissima Eh Ma poi appena entriamo nel centro Attacca Vogliamo tornare da lì? No Non lo so io non ce ne tornerei eh Cioè abbiamo la prova 1 Eh Temperatura di congelamento Proverei Ma infatti aspetta Allora Geric Tu hai controllato bene su tutte le cose Che non ci siano Io ho controllato tutte e non c'erano Controlla di nuovo Vai fatti un giro con la luce blu Oh mamma Allora E MF non c'erano Era massimo 4 Temperatura di congelamento sì È l'unica cosa No no Laio non mi sa che di qui non c'è Le macchie È morto È morto È morto No no L'ho visto Eh Ah Sì Ma l'unica Eh t'ha preso eh Ma ha preso l'imprunta Mamma mia Questo è maledetto Cioè come entri Ti attacca Ma che Questo usa gli axe Non ci si può nascondere Geric tu hai visto se c'erano Non ho visto nulla Ho visto solo delle maniche Laio mori per dire cose Meglio di no No infatti sì Non congno No no non andare Buttato dentro Appena 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 Entri Ti chiude la porta Non parlo È un pezzo di merla Questo fantasma Andiamocene Dice che magari con la luce UV riesco a guardare da fuori Ed è piccolissimo Io non credo Aspetta Ti vede qualcosa Senti qualcosa È una buona idea Ma non lo so Dove potrebbe apparire Non l'altro Tutte non c'erano Questo è un pezzo di schifo Guarda che appena entri Sì no Questo è stato aspettato È lì È lì È lì È lì È lì È lì pronto a chiuderti a chiave Boh che dirvi A me non me ne pare di vederne No 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 dai Non ti conviene Dai vieni via Vieni via Prima che fa qualcosa di brutto Già abbiamo perso troppe cose Vabbè allora in protege digitali mettiamo di no Tu comunque hai guardato un po' no Io ho guardato bene Non c'erano MF al 5 l'hai tenuto spesso? Sì sì Anche mentre attaccava? Sì Massimo 4 Ok La sfera di luce si può vedere però eh Perché basta che io prendo il treppiede Che dovremmo avere Non ce l'abbiamo Ce l'abbiamo però la videocamera Non sei sicuro Perché l'avevo visto No il treppiede dovrebbe stare qua in fondo Vicino al computer Credo Eh no Però abbiamo la telecamera La posso in Eh puoi piazzarla al bordo Eh Forse la puoi vedere anche eh Non si vede nulla Non si vede eh Oltre il cancello non andare No 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 Cos'è quello? Un Una parte di stre? Eh sì Ci sono io un pochino davanti Eh Questo è un problema Rappresenta eh Perché così io non vedo nulla Dalla telecamera Eh no si vede stre Che già ce l'ha Eh si vede Eh guardalo Dai stre Non potevi trovare un posto migliore Eh non riesco a spostarlo No mi tocca entrare E spostare la telecamera No non favo E tra poco poco Superi un post tre E butti la telecamera E scappi Ok Mio mio Ho fatto Beh ora non vedo stre Vediamo Qui è giusto Mi vede qualcosa? Eh non so se è questa È questa Sì perché si vede il piede Ho vedi stregato Boh Non si vede nessuna sfera di luce però Deve guardare bene Si vede ma ho riflesso strano Ma non sono sfere No è il riflesso della lamparina di Lion No no io ce l'ho spenta ora Ma si vedono delle luci là Guarda che può essere che sono quelle Vedete lì Non lo so perché si vede che si muove Oh che c***o è caduto Ma dove? Oddio Cos'era? Ma Noi eravamo tutti qua Quindi non eravamo noi eh Era tipo un giocattolo Cos'era? Tipo quei cerchi per prendere Sì è quelli che sono anche nel menu tipo Ma non possiamo andare uno di noi A controllare? Eh cosa vede uno di voi Mi capete le sfere Io non ne vedo Però vedo una luce là Ma quello dite che sono io E la cosa là No perché la telecamera Guarda all'altro posto Però è strana quella luce Qualche maniaco nei boschi Eh non può essere la sfere di luce Aspetta vado a controllare Eh vado a controllare È di fronte alla telecamera sinistra Dov'è? Qua? Ah se non ci sono le sfere di luce Può essere solo un moroi Che non sappiamo che è Se è molto aggressivo È lui per forza Beh proviamo a mettere moroi Vado eh Ok andiamo Andiamo via Mi sembra un uomo aggressivo No se deve un moroi Sì sì un moroi è aggressivissimo Non era un moroi Cos'era? Cos'era? Boh Demone Beh era demoniaco eh Beh sì Ma di brutto lo era Grazie per essere stati con noi Boys and Girls Buonanotte a tutti Ci vediamo domani E Lion Out